Buonasera a tutti e bentornati in questo nuovo aggiornamento meteo. Oggi vedremo le previsioni per la fine di questa settimana e del weekend, visto che ci sono delle notizie in arrivo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina se volete rimanere aggiornati delle previsioni meteo. Prima di iniziare a vedere quelle per la giornata di venerdì, sabato e domenico, voglio solamente mostrare che ci sono delle nevicate, ora qua Radar non lo sta dando ma sta dando nel nevischio. Comunque ha trovato la pianura su 0, sotto 0, in questo momento sta nevicando e nevischiando su tutta la pianura padana. Possiamo vedere che la nuvolosità è principalmente sparsa su quasi tutta l'Italia, ha elevato la parte adriatica, le Alpi, tutto il resto è creato maggiormente coperto da nuvole. Andiamo nella giornata di venerdì. Eccoci qua. La giornata di venerdì possiamo vedere che fin dalle prime ore del mattino sono caratterizzate da nevicate sulle Alpi, niente neve per ora, non si vede da neve né a Merano né a Bolzano, visto che la temperatura è un po' più alta. Piogge intense sulla Toscana e la Liguria, piogge sempre un pochino più intense su Lazio e Campania. Fece piogge con neve sulle Alpi e la parte ovest, est, scusate, dell'Italia. Andando avanti possiamo vedere che le temperature sono comunque rialzo. Temperature che a Firenze si toccano già 10 gradi, Genova 10 gradi, Perugia 8 gradi, Roma 12 gradi, Napoli 13 gradi. Temporali potrebbero esserci tra Liguria e Toscana. Nevicate a quote veramente molto alte, quindi nessuna neve lungo l'Appennino, si può dire, possiamo anche vedere. Forse qualche nevicata sui, sotto i mille metri, però veramente qualche nevisico più che altro. Mentre poi la situazione si farebbe interessante nella giornata di sabato anche, perché verso Torino, nella giornata del venerdì, potremmo trovare qualche fiocco a Milano, qualche fiocco lungo la pianura padana, qualche fiocco anche a Parma, qualche fiocco anche a Bologna. Cioè, sulla parte della pianura padana le temperature invece rimarranno un po' più basse, portando anche possibili nevicate. Andiamo avanti, possiamo vedere che nella giornata di sabato, nelle ore notturne, possiamo vedere che ci saranno delle piogge anche intense in Sardegna, piogge un po' meno intense nel sud Italia, poi un po' più forti nel Lazio e sempre nell'alta Toscana, nell'introterra Toscana sempre. Nevicate ancora a quote basse sulle Alpi e piogge sulla parte ovest dell'Italia. Nel mentre sta arrivando un'altra perturbazione, ma ci sarà un piccolo intervallo di tempo a nord con delle schiarite, mentre al sud pioerà. Nella giornata di domenica invece potremo anche vedere delle precipitazioni sempre miste a sole e nuvole, quindi non sarà tutto il giorno brutto tempo, ma potremo vedere precipitazioni e bel tempo. Nevicate che comunque il 21, no scusate, non il 21, il 24, potrebbero riarrivare a quote.